Due soli nuovi casi di coronavirus negli ultimi 10 giorni, a confermare la costante discesa della curva epidemica anche nella provincia Batta, oltre che nel resto della Puglia. Il calo delle infezioni si accompagna in misura sempre maggiore all'aumento delle guarigioni. Nei comuni di Margherita di Savoia, Trinitapoli e San Ferdinando i contagi sono stati completamente azzerati. A Biceglie è sceso a 20 il numero delle persone positive, di cui 7 sono pazienti dell'Opera Donuva ricoverati nei reparti covid della struttura. A Trani i guariti dal coronavirus sono saliti a 7 ed anche le 15 persone positive attualmente in isolamento domiciliare sono avviate verso la negativizzazione. Solo due al momento i cittadini tranisi ricoverati all'ospedale di Biceglie. A Barletta non ci sono aggiornamenti rispetto ai 6 casi positivi annunciati dal sindaco Cannito la scorsa settimana. Migliora la situazione a Minervino Morge dove il numero delle persone ancora infette è calato a 25, 16 sono ex ospiti della RSA Opere Pieri Unite Bilanzuoli, 4 sono operatori della stessa struttura per anziani ed altri 4 risultano parenti di dipendenti contagiati. Un solo caso è quindi esterno alla casa di riposo, l'ultimo ad essere stato rilevato dalla ASL. Nella vicina Spinazzola invece si attende il nuovo tampone per gli unici due casi rimasti ancora aperti. La progressiva contrazione dei contagi ha riguardato anche Andria e Canosa, tra le città dell'abbatto più colpite dal virus, oggi con meno di 30 casi a testa rispetto agli oltre 60 rilevati durante il picco dell'epidemia. Il calo costante dei nuovi casi di Covid-19 con il contestuale aumento delle guarigioni ha aperto un dibattito a Biceglie sul destino da assegnare all'ospedale Vittorio Emanuele II. Sino a quando si chiede il sindaco Angarano, seguito a ruota da diversi consiglieri comunali, la struttura continuerà ad essere presidio Covid di riferimento per l'intera provincia. L'esigenza manifestata dal primo cittadino è di riavire quanto prima operativo il Vittorio Emanuele II anche per tutte le patologie diverse dal Covid-19. Angarano inoltre vorrebbe aprire un'interlocuzione con la regione per assegnare all'ospedale la classificazione di presidio sanitario di primo livello. Un proposito in verità che mal si concilia con la sottrazione già prevista dalla ASL di quattro dirigenti medici destinati ad altri nosocomi del territorio. Grazie. 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 Grazie.